L'incidente aereo di domenica in Etiopia, simile per modalità a quello accaduto in Indonesia a ottobre, ha riacceso in tutto il mondo il dibattito sull'affidabilità degli aeroplani di ultima generazione. In particolare, a finire nell'occhio del ciclone, sono i Boeing 737 MAX 8. Della sicurezza dei voli si è interessato anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha prima parlato con i vertici della Boeing e poi ha esposto su Twitter le sue considerazioni. Secondo il capo della Casa Bianca, pilotare un aeroplano è diventato troppo complicato, tanto che, dice Trump, ai comandi ci dovrebbe essere Albert Einstein. La complessità, sostiene sempre il capo della Casa Bianca, produce pericolo. Intanto continua a salire il numero dei paesi che hanno deciso di lasciare a terra i 737 MAX 8. Agli Stati dell'Unione Europea si sono aggiunti Norvegia, Etiopia, Indonesia, Australia, Italia, Cina, Mongolia e Corea del Sud. Gli Stati Uniti non li hanno ancora messe al bando, ma hanno chiesto alla Boeing di aggiornare il software dell'aereo che, al momento, mentre le indagini sono ancora in corso, è considerato una delle cause degli schianti.